Un'altra novità, Perets of the Caribbean, musica di Klaus Baldert, arrangiamento di Ted Ricketts. Il compositore Klaus Baldert ha iniziato la carriera scrivendo musica da film e annunci pubblicitari nella sua terra natale, cioè in Germania. Nel 1997 però si trasferisce negli Stati Uniti componendo la musica per oltre 25 film importanti di Hollywood. Baldert genera una musica originale che si integra in modo autentico alla trama del film con una creatività e uno stile unico. Il corpo bandistico Città di Ledinara conclude quindi questa sua esecuzione proponendovi all'ascolto la colonna sonora del film I Pirati dei Caraibi. L'arrangiamento è di Ted Ricketts, Perets of the Caribbean. A voi! I Pirati dei Caraibi. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.